A fine partita ha voluto tutti i giocatori intorno a sé, perché? Perché siamo molto più forti di quello che la classifica dice. Abbiamo pagato tantissimo questo stop e questa ripartenza, eravamo partiti molto bene con il punto d'era venendo raggiunti la prima di antenato all'ultimo secondo su due calci piazzati, un rigore e una punizione da 40 metri. Poi siamo stati un mese più senza allenarsi, siamo ripartiti a due allenamenti a settimana, siamo stati in ritardo. Stiamo cominciando ad entrare in condizione ora ma i ragazzi stanno dimostrando un grande cuore. La partenza è stata difficilissima perché ripartire, tanti errori individuali, ripartire dopo 3-4 mesi a regime ridotto, con due allenamenti sulle gambe a settimana è stato difficilissimo. Ma ora stanno tenendo fuori un cuore enorme. Fase difensiva perfetta. Grazie, sono stati bravi. Ci si lavora tanto in settimana, è dall'inizio che ci lavoriamo. E poi affrontare le squadre di Mister Palazzi, che è un grande professionista, è sempre un piacere, è sempre una lotta incredibile. Si dimostra ogni anno un allenatore straordinario. Probabilmente quando c'era la fase offensiva, nei contropiedi, un po' di coraggio in più. Esatto, ci dobbiamo lavorare perché il coraggio nel calcio è una cosa difficile. Il duello, il coraggio è una cosa difficile ma ci arriviamo. Sono ragazzi, poi una squadra giovane, sono praticamente tutti 2003-2004. Quindi che gli devo dire ragazzi, niente, hanno fatto una partita straordinaria. Grazie a me. Niente, buona giornata, grazie.